Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Brawl Stars Arriviamo al mio like, condividete il video, scrivete al canale se sei nuovi, lasciate il hashtag Brawl Stars Questa è un'altra puntata per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Allora, oggi voglio farmi un paio di partitina per in Brawl Perché c'è un'offerta molto interessante su Brawl Stars E visto che nell'ultimo video avete visto che ho trovato 100 gemme Ho pensato a sto punto mi prendo una skin a tema di questo evento, di questo periodo di Brawl Stars E effettivamente hanno messo un'offerta tranquilla di un brawler di cui ho una sola skin E neanche bellissima, che è la Jackie Quindi a questo punto, Jackie, Jackie come volete chiamarla C'è l'offerta di Jackie Seppia, molto carina, che andrebbe poi in combo con l'altra seppia Che sta nel pass, quindi tanta roba E questo personaggio è tra i top 5 per la mappa di oggi di Paint Brawl Ok? Ce l'ho maxata, ce l'ho con l'overdrive Ce l'ho all'11, tutto alla grande Ci manca la skin figa da utilizzare Giustamente abbiamo anche la reazione esclusiva Costa solo 79 gemme Ci danno la skinnina, che eccola qua Veramente molto carina, attiviamola subito Giustamente la pinnina E ovviamente ci saranno anche delle offerte Una la possiamo andare a prendere immediatamente Che è il primo premio star, grazie Un premio star a gratis super raro Partiamo subito con la tristezza 100 monete che non ci rispiacciano E i prossimi premi si dovrebbero sbloccare nei prossimi giorni No, in realtà no, questo va sbloccato con 49 gemme T'attacchi Sinceramente va bene lei Mi accontento di lei Basta, mi tengo con 130 gemme Perché poi con quelle che recupero dal pass Probabilmente possiamo fare cose Allora, non so se nel pass c'è qualcosa altro di nuovo sbloccato Perché sto prendendo tutto tranne i punti Eccoli qua Quindi ci prendiamo Nuovo graffito Sto prendendo pure subito le star Perché tanto abbiamo capito Epico Epico Subito, subito, freschissimo Eh, skinnina Skinnina di ambra No di ambra, di Janet Forza G Non ce l'avevo Molto carina Alleluia Prendiamo robina nuova Ci piace È tornata indietro perché ovviamente avevo lasciato roba indietro Allora, blinghini Ok Punti Per potenziare i brawler Altri punti per potenziare i brawler Altra star drop Vai Vai Super rara Niente Tristezza cosmica come sempre Perché siamo sfortunelli Ok Si continua Vediamo un po' dove riusciamo ad andare Non volevo arrivare fino alla fine Non mi serve Non la posso ancora sbloccare Io non scioppo con i miei colleghi Ok Mi sa che ho preso tutto Ah Ho preso tutto Va bene Lì ci stanno i mille punti per il prossimo brawler Chissà come sarà Quanto sarà grosso E quanto ci vorrebbe sbloccarlo Allora vado a farmi un paio di paint brawl Con la Jackie Con la nuova skin seppia Ho notato che la viralità del paint brawl Non è altissima Specialmente per questa mappa Mi dispiace perché è simpatico Come gioco può essere sia velocissimo Che lentissimo Cioè nel senso può capitarvi bene come malissimo Bam Infatti qua cominciamo male 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 Alla grande Facchiamo subito Ale Facci sognare Lorenzo Che cerco di coprirve Assolutamente Ce la proviamo sicuro Bam 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 Mori mori Bam A posto Grazie Ok devo dire che ci sta andando discretamente di lusso Olè Devastazione Lorenzo Potentissimo Lorenzo Che cosa si è inventato Lorenzo Eh sto a sbagliare io qua però Qua ce muoio male Ecco che ci muoio male Mi vado a nascondere un attimo Abbiamo vinto grazie all'altro ragazzo La partita più veloce della storia Contate che siamo a 666 Quindi comunque siamo medi Giocatori non siamo bassissimi Ok io me l'azzarderei bella cattiva Voilà Acceleriamo Boom boom Devastato Questa la rivinciamo in istante Ci abbiamo di nuovo Lorenzo con noi No abbiamo il veleno dell'altro ragazzo Allora diciamo che Giacchi è buona pure per un altro motivo molto importante Perché c'ha la corsa Quindi può effettivamente fare degli ottimi sprint con la palla Ovviamente non so dove è andata la palla Ah c'è l'altro avversario qua ancora vivo E io potrei pure azzardare una botta su Corvo dal muro No mi sono fregato da solo Ho esagerato lo ammetto Ho spinto un po' troppo Ok andiamo a recuperare la palla se possiamo Il nostro compagno è morto adesso Abbiamo qualche problema logistico Vediamo po' se riusciamo a gestirlo Ok vorrei Azzardare una assorbita Bam uno la devastiamo Eh so per morirci me do Me do niente so vivo Non so vivo ho detto il contrario Sono morto Dai Non ci facciamo fregare così Scimmia cosa combini No la scimmia impazzita La scimmia non so come si sta inventando Ma è un player La scimmia Fai dei jump totalmente errati Sì vabbè ma devastato Regà lens ma devastato Che fortuna che c'è Lorenzo Fortuna che c'è Lorenzo Che sta ribaltando la situation Che non ero non morto di più Ok Vediamo un po' che succede qua Bra Devastata te Una Una l'abbiamo portata a casa Vienici qui Vienici se c'è coraggio Passo che ho fai con la palla Preso Bam preso più palla Non è vero la palla non l'ho presa Però posso ancora eliminare gente Eh però me devo allontanare Bam Oh questo è stato un bel assist Mi è piaciuto Mi è piaciuto tantissimo Oh che devasto che ha fatto Lorenzo Vieni No ho sprecato una super Me ne era gravissima Me ne era molto greve Bam Bam Ok eliminato Ok sto facendo degli errori cosmici Bam Gli elimino uno dei piccoletti Bam Gli elimino un altro Bam Però così mi faccio ammazzare Infatti lo sapevo Ok questa partita sarà più lunga Già si vede Voilà 92 a 38 Non stiamo lontanissimi dalla vittoria Eh Potremmo inventarcela qualcosa Sa Tipo questa No Ma fregato Bam Vediamo un po' se riesco Perfetto Eliminata Manca l'8% No Il 2% Regà Preso Vai Bam No Ancora un 98% Dai Maledetto corvo Dai Ok Tira No 99 Ragà 99 Prendi un'altra macchietta Fatto Allora ne facciamo un'ultima Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa Stiamo contro un Samuel Pro Della Il ragazzo Lorenzo di prima se n'è andato Palla mia Adi Ok Vedo due fermi Vedo GX Kiko Che è stato talmente fermo Questa cosa mi preoccupa un po' Ok Vanno attaccando a me perché ovviamente se lo possono permettere Ah D'aiuto La palla me la tengo io mi prega niente Non mi ammazzate grazie Potrei anche fare un piccolo azzard Fare così Voilà Bam 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 Non elimino nessuno Eh muoio Muoio male Peccato Volevo azzardare Raga ho fatto una grandissima cavolata Lo ammetto Volevo provare a vedere se il personaggio poteva fare quella magia E secondo me ci andiamo a perdere questa cosa Allora io la vedo Un bombardello Che muore subito Ale Mi prendo subito la palla Ok Vediamo un po' se riesco Ribaltare la situazione Non sto per morire malissimo Sto per morire malissimo E ci muoio veramente male 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 Dunque vedo i miei due compagni che non sono molto abietti alla grande Vedo che hanno un po' di problematiche Ok quello è morto a secco perché era un po' Bombardino Ok Vorrebbe venire più avanti lei Sei sicuro? Ci mori Non lo vuoi che ci mori se fai un gioco del genere con una giacchi Eccolo Questo mi frega al massimo Appunto perché non ho manco tirato la palla E non so perché Avevo pure mirato per tirare Va Volevo tirarla invece Lo sai che il nostro compagno sta per morire male Ok Non c'ho più la corsa Brutta situation Oh le Andiamo un po' Moriamo No non è morto l'altro No dai che cuore che c'avete Più che altro perché c'avete il curatore e noi no Abbiamo due persone molto svegliotte Ok Chico si è svegliato Chico si è svegliato Vai Chico Portaci alla vittoria Chico Mochette sei un attimo caricato Vediamo un po' Arrivo Vale Dentro un muro Ok Guardali va Guarda il maledetto Guardalo Va E niente Non riesco a ammazzarlo E' pazzia Non riesco a ammazzare un bombardino E gli altri non riescono a eliminare Il coso Qua mi sa che la perdiamo male 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 eh Vale perdiamo male 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 Ma guardala lei Molto furba Me dicono Ok Eliminato Potremmo farcela ancora eh E dai però Maledetto curatore Quanto non lo sopporto Mi sa che pure Iscrivita mente bravo Sare dire E non riesco a curarmi poi Per colpa sua Bombardino non mi fa andare in avanti E abbiamo perso E' persissimo Lui l'ha eliminato Oh abbiamo recuperato la percentuale Che cosa è successo? Da non credere Da non credere Vinciamo alla fine? Vinciamo alla fine? No dai Non è possibile sta cosa Dai no Non c'ha senso Regà Non c'ha senso 3 2 1 Vinta Vinta Oh appena pelo Allora ragazzi Siamo passati a 689 Ho fatto quasi il 700 Su paint brawl Con 3 partite vinte di fila L'ultima abbiamo fatto Una fatica immonda Ma alla fine L'abbiamo vinta Anzi sa neanche da un po' come Poi ci siamo riusciti Arriviamo a 1000 like Condividere video Scrivete al canale Se nuovi Lascia il hashtag Brawl Stars Quanto prometti Per ricevere un codicino E ditemi se anche voi Avete comprato questa skin Con soli 75 gemme Grazie